Buongiorno a tutti, ieri alle 20.30 circa si sono conclusi i lavori in commissione sul decreto rilancio. Io però stamattina devo raccontarvi un fatto gravissimo. Ricorderete sicuramente dei fondi che il Movimento 5 Stelle aveva stanziato nell'ultima legge di bilancio per aumentare gli stipendi dei vigili del fuoco. Ecco, noi proprio sul decreto rilancio avevamo come Movimento 5 Stelle presentato un emendamento per tradurre finalmente quei fondi già stanziati in aumento di stipendio dei vigili del fuoco. Che cosa è successo però? Con l'opposizione della Lega questo emendamento non ha potuto vedere la luce. Voi vi chiederete ma avete la maggioranza? Come mai questa opposizione della Lega ha potuto fermare l'emendamento? Ebbene dovete sapere che l'emendamento è stato dichiarato per due volte inammissibile dal presidente della commissione bilancio, il leghista Borghi e quindi come condizione per votarlo ugualmente è stata richiesta la firma di tutti i capigruppo. Come vedete adesso questo documento è l'originale dell'emendamento vedete le firme di tutti i capigruppo in commissione bilancio e vedete in ultimo anche la firma del capogruppo della Lega Massimo Garavaglia. Ecco ieri proprio a chiusura dei lavori c'eravamo il leghista Massimo Garavaglia prende la parola e dice di voler ritirare la firma da quell'emendamento di fatto bloccandone la votazione e l'approvazione. Quindi dopo tutti i selfie che Salvini va in giro a farsi anche con i vigili del fuoco anche da ministro dell'interno, ce lo ricordiamo bene con le giubbe, le felpe e quant'altro dei vigili del fuoco, poi blocca l'emendamento per aumentare gli stipendi ai vigili del fuoco. Questo secondo me è un atto di una gravità pazzesca e tutti devono saperlo. Noi come Movimento 5 Stelle aumenteremo comunque gli stipendi ai vigili del fuoco nel prossimo provvedimento utile e il sottosegretario Sibilia che ieri era in commissione già ha preso impegno in tal senso. Però rimane una gravità assoluta di questa azione da parte della Lega che ha bloccato di fatto l'aumento degli stipendi ai vigili del fuoco. Quindi fatelo girare questo video e fate sapere a tutti il vero volto della Lega oltre i selfie di Salvini.